Lo scorso anno, nel periodo estivo, il lago di Gramolazzo è stata la meta preferita di tantissimi turisti italiani, ma anche stranieri. Uno spicchio bellissimo di alta garfagnana e un bacino artificiale che risale al 1953 e nel quale si specchia quasi vanitoso il maestoso Monte Pisanino. Le immagini che vediamo si riferiscono al giorno di Ferragosto 2021, quando il lago di Gramolazzo fu letteralmente preso d'assalto da migliaia di persone. Ciò grazie anche ad una serie di opere di valorizzazione del luogo e un accordo tra comune di Minucciano ed Enel. Infatti Enel, quanto l'è stato possibile, ha mantenuto il livello delle acque alto in modo da conservare intatta cotanta bellezza della natura. Nel frattempo, proprio in questi giorni, fervono i lavori per completare un nuovo tratto del percorso che ha come obiettivo finale quello di completare la passeggiata sulle sponde intorno al lago. Adesso i lavori sono in fase di ultimazione nella zona più in basso vicino alla diga e tra pochi giorni questo nuovo tratto di lungo lago verrà anche inaugurato. Apri uno scorcio che non era conosciuto sul lago, una realizzazione che credo darà ulteriore qualità all'offerta turistica, sociale e culturale della nostra valle. Siamo già arrivati a quasi 3 km di pista ciclabile con abbattimento delle barriere architettoniche, il sogno è di completare tutto il percorso, abbiamo già l'accordo con Enel per farlo, abbiamo in progettazione già affidati anche appunto i progetti per la prosecuzione dell'otto. Speriamo di riuscire a completarla entro luglio e quindi insomma agosto renderla già fruibile ai turisti.